ecco il vapore parliamo di stiero in verticale ma parliamo anche di igienizzazione vi abbiamo voluto fare una dimostrazione di questo apparecchio della roventa che tende il tessuto e nello stesso tempo grazie a tutta questa grammatura di vapore che butta fuori vi sterilizza sterilizza ogni tipo di tessuto dai più delicati come seta lana eccetera al cotone è comodissimo perché stira in un attimo quindi giacche cappotti pantaloni e tutto in 60 secondi è pronto ha una struttura comoda per appendere i cappotti le giacche gli abiti ed è una struttura regolabile quindi se ho pantaloni addirittura ho la possibilità di appoggiarli con la sua clip eccoli qua diventa alto quasi un metro e settanta oppure posso regolare abbassare l'altezza se devo stirare una giacca o una gonna o qualcosa di più comodo fino a richiuderlo completamente per poterlo spostare e riporlo con le ruote tiene un litro e mezzo di capacità eccolo qui che lo stiamo richiudendo lo si tira lo si sposta comodamente il vapore basta accenderlo direttamente dal pedale lo facciamo partire spingendolo a pedale cosa che noi adesso naturalmente non facciamo un litro e mezzo di acqua 1500 watt 60 secondi per essere pronto ed è il nuovo sistema a vapore che sanifica e sterilizza i tessuti butta veramente una grammatura di vapore grandissima eccolo qua e poi lo si ripone in un attimo è praticissimo per chi deve disinfettare o igienizzare velocemente tessuti abiti che magari avete indossato fuori in autobox o dove o dove magari in posti dove non siete tranquilli quindi vi passate la vostro vapore lo richiudete in un attimo è pronto questo qui la nuova versione compad valet di roventa ce ne abbiamo pochissimi in offerta visto la grande richiesta eccolo qua piccolino comodo un litro e mezzo di acqua di rubinetto pronto in 60 secondi stira e disinfetta ogni tipo di tessuto vi aspettiamo per venirlo a vedere venire a scoprire l'offerta un saluto da vaccari elettro casa